Questa mattina attorno alle ore 11 gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Chioggia sono intervenuti al parcheggio del supermercato Lidl in via Acacia a Sottomarina dove un uomo e una donna stavano cadendo in contravenzione rispetto alle direttive del governo per contenere il coronavirus. Pare infatti che i due, dotati di mascherina e probabilmente di autocertificazione, volessero entrare assieme nel supermercato per fare la spesa, circostanza non consentita da decreti e ordinanze che parlano di un individuo per volta. Sono state due le volanti della polizia a intervenire e anche se non ci sono stati episodi di esagitazione, i trasgressori hanno sulle prime contestato il provvedimento chiedendo clemenza. Gli agenti hanno tuttavia applicato le regole e stilati il verbale, mostrando particolare attenzione anche alla provenienza dei clienti. Le norme infatti suggeriscono pressantemente a tutti di rivolgersi ai negozi più vicini alla propria abitazione. È iniziata oggi da Valli di Chioggia e proseguirà nella frazione anche domani. Oltre a una prima parte del centro storico di Chioggia, la consegna porta a porta nella cassetta delle lettere di ulteriori mascherine alla cittadinanza, due per nucleo familiare, grazie alle nuove forniture da parte della città metropolitana di Venezia. La consegna è a cura della protezione civile di Chioggia e dei volontari del gruppo adulti dell'oratorio salesiano Don Bosco. Per chi avesse esigenze particolari, l'invito è a contattare i volontari della protezione civile. Telefono 041 490 191, mail volontari.pc.chioggia.org. Intanto, i dati statistici del primo mese di attività della Polizia Locale per il contenimento dell'epidemia di Covid-19 evidenziano numeri davvero rilevanti. La Polizia Locale ha effettuato 2452 controlli tra persone fisiche ed esercizi commerciali e contestato 37 violazioni e decreti ordinanza, di cui 6 nel solo giorno di Pasquetta, persone a passeggio lontano da casa, senza alcuna giustificazione. Sempre a proposito di cifre, sono 214 i positivi nel territorio comunale di Chioggia dall'inizio dell'epidemia, compresi i guariti e i 19 i deceduti, mentre 458 persone sono state isolate a domicilio, in quanto entrati in contatto con coloro che sono stati contagiati. Tra questi, 29 ospiti della casa di riposo di Sottomarina e 22 infermieri e operatori sanitari hanno contratto il virus. Proprio l'IPAB ha dato vita a una campagna di donazioni, sia attraverso un conto corrente al Cesare Filiale di Intesa San Paolo, se tramite un conto corrente e postale. Dunque, contrariamente a quanto avevamo detto, pubblicato sabato scorso su quel bar di Calle Doria, se non sbaglio, in cui avevamo dichiarato che era stato trovato aperto dalla polizia ed era stato sanzionato, solo oggi, oggi è martedì 14 aprile, solo oggi abbiamo avuto la conferma che non è stato sanzionato. Quindi provvediamo a darne notizia. Il bar comunque era aperto, non l'abbiamo saputo solo da testimoni, ma c'ero io, sono andato a prendere il pane ed era aperto e aveva una fila di clienti suoi abituali fuori dalla porta, quindi serve da chiedersi cosa facevano, visto che non si dovrebbe circolare in assembramento cosa facevano. Comunque, lasciamo perdere questo discorso, lasciamo perdere che lui ha scritto, ci ha venuto a scrivere che stava facendo sanificazione, la figlia invece ha scritto che sta facendo manutenzione straordinaria, lasciamo perdere tutto, ne diamo notizia come nostro dovere e attendiamo sviluppi futuri. Sindaco, non la vogliamo un'antenna a casa, siamo preoccupati per la salute? Recita così lo striscione appeso all'esterno del cantiere all'isola Saloni, nei pressi del parcheggio comunale, dove in fase di spostamento è l'antenna per la ricezione telefonica, che presto adotterà il protocollo 5G. Lo ha preso nelle scorse ore i residenti del quartiere, che per vent'anni hanno comunque convissuto con il manufatto precedente nei pressi della cabina dell'Enel. Vale considerare come il progetto abbia ottenuto tutte le autorizzazioni degli enti preposti, trovandosi quindi in piena regola. Peraltro riesce difficile pensare a giorni e settimane come queste, in cui la distanza è imperativa, se non vi fosse un'adeguata rete di copertura telefonica e internet attraverso i ripetitori nel territorio. Non solo lo sviluppo delle reti di telefonia mobile 5G è considerato strategico a livello nazionale, ma si è visto quanto sia necessario per ridurre il cosiddetto digital divide nel lavoro e nella scuola. Proprio grazie all'emergenza, molte classi di insegnanti allievi stanno accelerando a passo da gigante nell'acquisizione di competenze informatiche, utili soprattutto in futuro. C'era molta attesa questa mattina a mercato articolo di Brondolo per il primo grande conferimento del radicchio nuovo di Chioggia, con i timori per un eccessivo ribasso del suo valore, oltre alle grandi quantità invendute. Il carico odierno ammonta circa 800 quintali e il principe rosso è stato scambiato a 25 centesimi di media al chilo. Cifre preoccupanti, ma giudica un operatore meglio del previsto. Il lockdown è stato evitato, probabilmente solo rinviato. L'importante adesso non è il prezzo, dice il commerciante, ma riuscire a vendere tutto. Al prezzo penseremo più avanti. Con il blocco confermato in Francia fino al 4 maggio e nel resto d'Europa, anche una settimana più tardi, il destino appare segnato. Preoccupazione traspare anche dalle parole di Mauro Mantovan, funzionario della Confederazione Italiana Agricoltura di Chioggia. Ero poco fa al telefono con un associato disperato, racconta Mantovan a Chioggia Azzurra, anche perché nella crisi sono interessati tutti i prodotti, come le carote e non solo il radicchio. Ci mettiamo nei panni di chi coltiva e spende 8 o 12 mila euro a ettaro, anticipati o facendosi debiti. Qualcuno sta pensando al macero, a distruggere la propria produzione e cerchiamo di scongiurarlo. O la situazione recupera con le prossime semine, con raccolto di fine aprile e di maggio e magari con la modifica del clima, oppure saranno sopraffatti dagli affitti e dal costo dei mezzi di produzione. Secondo Mantovan, a 70-80 centesimi il chilo ci può essere un guadagno ragionevole, mentre la sostenibilità per andare in pari può essere fissata tra 40 e 50 centesimi a seconda della tipologia aziendale.